Per questo nostro viaggio mi ricordo che qualche anno fa c'è stata una fortunatissima trasmissione che poi è andata avanti anche con un sito internet che si chiamava turista per caso turisti per caso forse addirittura e io un po' per caso mi sono trovata come turista in questo mondo del lavoro a lavorare in qualche modo per dei progetti di psicosintesi e non solo. Quindi diciamo che questa conferenza è più che altro una riflessione è una riflessione di una di una psicologa clinica io sono una psicologa clinica non sono una psicologa del lavoro però ho avuto l'avventura in questi anni di portare dei progetti di psicosintesi ed intorno e di collaborare con le risorse umane famose HR anche all'interno di aziende e compagnie di rilievo come DHL, L'Oreal, Best Western, Nexi. Quindi mi sono trovata in un mondo veramente diverso da quello che avevo frequentato e che frequento e questa conferenza è frutto di alcune esperienze di quelle che vi ho segnalato e che sto anche facendo continuando a fare insieme ad altre cose. Però oltre a essere frutto di un'esperienza potrà sembrare forse a tratti anche una conferenza un po' utopica anche se poggia su delle su delle esperienze. Allora se dobbiamo essere in contatto con un'utopia io parto subito con un'utopia molto grande. Secondo me tutti quanti parliamo del mondo del lavoro ma secondo me tutti quanti dovremmo lavorare meno e meglio. E a mio eh così a supporto di questa idea vi porto alcuni piccoli esempi prima di entrare poi nel vivo diciamo delle risorse umane che dà il titolo a questa conferenza. Mi farzo mi faccio per esempio portavoce di un di un giovane di un giovane scrittore credo che sia adesso trentenne o poco più che si chiama Rutger Bregman è un giovane scrittore storico olandese che ha pubblicato diversi libri di storia di filosofia di economia è un pensatore piuttosto largo ampio. Uno di questi libri si intitola Utopie per realisti come costruire davvero il mondo ideale è diventato un best seller qui da noi non l'hanno tradotto mi pare che si trovi soltanto ehm come ebook. Io ce l'ho come ebook quindi senz'altro si trova come ebook e è un'opera invece importante è stata recensita anche da The Guardian, il Washington Post, dalla BBC. Ha scritto anche un altro libro interessante che invece quello esiste c'è e qua anche qui vicino che si chiama per una storia non cinica dell'umanità. Un suo libro molto interessante. Cosa dice Bregman? Perché mi interessa portarlo qui adesso? Perché ci porta a ripensare il concetto del lavoro. Lui dice oggi eh la pressione eh e il lavoro eccessivi sono diventati come uno status symbol. Cioè dire io lavoro tanto mi sento stressato sono sempre presa delle cose oltre a una realtà di molti però è anche un po' uno status symbol. Quindi avere un po' di tempo libero e dichiararlo è considerato insomma non non uno status symbol di grande rilievo. È un po' come essere mezzo disoccupati. Non come se fosse la scelta intelligente di anteporre la vita al lavoro. Eh ci si potrebbe chiedere ma lavorando meno non si rischia non si rischia di passare il tempo davanti alla tv per esempio cioè di fare qualche cosa che ha un poco significato è una perdita di tempo. Proprio rispetto alla tv ci sono delle delle ricerche che dicono ehm che in realtà è proprio nei paesi in cui si lavora molto moltissimo come per esempio l'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America in cui le persone guardano di più la tv. Quindi meno tempo si ha in realtà e più si passa perché probabilmente è come una sorta di relax che viene cercato, viene trovato con molta facilità e quindi c'è come un'alternanza divano, sedia dell'ufficio o di qualunque altro sia il posto del lavoro senza senza il por niente in mezzo. Altri esempi che vanno verso questa utopia io mi sento supportata sempre da Bregman è questo eh la Danimarca per esempio ha la più breve settimana lavorativa del mondo ma è il quinto paese in termini di produttività è piccola è la Danimarca è il quinto paese in termini di produttività perché quello che conta anche se si parla di produttività quindi di qualità del lavoro non è lavorare di più ma lavorare meglio. Sempre citando Bregman quello che dice che bisognerebbe ridurre i consumi e l'ore di lavoro eh e condividere un reddito adeguato a tutto un suo progetto molto utopico ve l'ho detto però interessantissimo per fare un po' di stretching mentale per ottenere dei vantaggi sia per le persone che anche per per il pianeta. Si si potrebbe ridurre l'impatto ecologico delle emissioni di energia di carbonica e saremmo più liberi dice lui di lavorare quello che vogliamo oltre al lavoro ufficiale no? lavorare fare quello che ci pare quando vogliamo non vi riporto per intero tutto il suo pensiero perché non è il focus di stasera vorrei solo che rimanesse un po' eh sullo sfondo soltanto un altro paio di esempi che vengono da Bregman ma non solo che mi hanno fatto riflettere pensando al lavoro per esempio. eh e qualche anno fa ha suscitato molto interesse la scelta di un'azienda neozilandese che si chiamava Perpetual Guardian che si occupava di patrimoni, testamenti, un'azienda grande con duecento impiegati ehm e questa azienda ha scelto di ridurre la settimana lavorativa per quei dipendenti che lo sceglievano, che lo desideravano a solo quattro giorni di lavoro senza aumentare l'orario giornaliero senza diminuire gli stipendi e di rendere quindi non solo diminuire la giornata lavorativa le giornate lavorative ma anche di rendere molto flessibile la gestione del tempo per andare incontro a quelle esigenze eh di organizzazione familiare dei lavoratori questo prima del covid è anche interessante che ci sia di mezzo il covid dal quale abbiamo imparato ben poco secondo me o comunque poco meno di quello che avremmo potuto ma non si sa non è finita qua non non il covid che spero di sì veramente che ma spero che eh diciamo l'onda lunga di alcune esperienze significative si faccia sentire in modo positivo eh quindi cosa ha fatto questa azienda insomma questa neozelandese è andata un po' al nocciolo di quella questione della conciliazione lavoro vita eh vita privata intendo che è molto presente anche per esempio nel piano nazionale di ripresa resilienza il famoso PNRR è un punto strategico strategico importante nel duemiladiciotto ha fatto queste innovazioni l'azienda e cosa è successo? Non solo sono diminuiti di molto i livelli di stress dei dipendenti e sono aumentati i livelli di soddisfazione riguardo alla possibilità di conciliare proprio la vita privata e professionale per dare un numero le persone soddisfatte sono passate del lavoro sono passate dal cinquantaquattro al settantotto per cento e uno direbbe grazie chi non sarebbe soddisfatto ma quella che ci ha guadagnato è stata anche eh la produttività dell'azienda che è un po' una cosa controintuitiva no? Dice questi lavorano di meno lavorano quando vogliono e comunque in meno tempo sarà andato tutta rotoli per forza loro sono contenti ma ma si è registrato un incremento della produttività del venti per cento e d'altronde ce lo dice anche l'OX e l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che il rapporto tra l'orario di lavoro e la produttività non è affatto dato per scontato non è vero che quando si lavora di più si lavora meglio cioè si produce di più io parlo in termini merio di mero lavoro proprio eh anche se ehm perché benissimo quando le cose vanno tutte insieme no? Quindi questa ricerca una ricerca molto molto recente mostra quanto vale in termini proprio di di pil un'ora di lavoro a seconda dei paesi e si è scoperto che in alcuni paesi per esempio la Corea del Sud oppure la Grecia che hanno settimane di lavoro molto pesanti ecco queste queste nazioni la Corea e la Grecia non rientrano affatto tra le nazioni più produttive anzi spesso i paesi più produttivi proprio sono proprio quelli in cui si lavora un po' di meno questo della Nuova Zelanda è stato un esempio ma non è un esempio isolato eh anche in Giappone per esempio che è un altro paese che ha una produttività inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare visto che si sa che i ritmi di lavoro sono massacranti e c'è anche una cultura del lavoro che è proprio ipercompetitiva però anche in Giappone si stanno scogitando misure per mandare a casa gli impiegati entro l'orario eh ordinario quando finisce l'orario proprio per recuperare una produttività che non è collegata al fatto che stanno lì più a lungo dell'orario di lavoro e anche per superare in Giappone come io spero attecchisca dappertutto questo convincimento culturale che la qualità dipende dalla quantità di lavoro si sa che non è che non è così invece si tratta di spendere meglio il tempo l'intensità è importante più che la durata l'estensione ehm e questo e questo potrebbe mettere d'accordo eh sia le persone che lavorano sia la le aziende le organizzazioni perché ci sarebbe ehm senza creare un aumento di costi potrebbero migliorare eh fatturati quindi mh questa è una cosa che mi interessa perché sono quelle cose piccole che però grandi che mettono d'accordo è un po' un vinci vince a me mi fece questo stesso effetto quando ho letto queste queste importanti ricerche mi fece lo stesso effetto di un di una piccola cosa ma che per me è rimasta un po' un simbolo e cioè quando è stato scoperta fatta questa piccola invenzione del della moneta nel carrello della spesa no io mi ricordo ve lo ricorderete anche voi molti di voi forse non tutti come erano disordinati i carrelli i carrelli buttati qua e là prima che ci fosse questa piccola eh ingegnosa eh scoperta che se tu metti eh un euro ti scoccia perderlo e quindi per riprenderlo vai a mettere a posto il carrello e gratis non lo faceva quasi nessuno no? quindi nessuno ci perde perché l'euro lo metti e poi lo riprendi che cosa ci guadagna un po' un po' tutta l'organizzazione anche le persone che non trovano carrelli sparsi di qua di là c'è un po' d'ordine e c'è una eh una maggiore eh fluidità no? A me mi aveva colpito l'ho trovato un esempio molto interessante veniamo alla conferenza adesso siamo entrati un po' nel mondo del lavoro la conferenza che a questo titolo siamo tutti risorse umane come come quel punto esclamativo nasce da una riflessione anche da una vicinanza che io colgo nei diversi campi di applicazione della psicosintesi voi sapete che il campo di applicazione diciamo eh re è il la psicosintesi personale quindi il campo personale però la psicosintesi ha anche altre applicazioni nel campo dell'educazione per esempio delle nel campo delle relazioni interpersonali nel campo sociale quindi anche nel campo del lavoro e dell'organizzazione quindi è una riflessione questa che lega il concetto di risorse umane applicato al campo personale al campo sociale appunto in particolare nelle organizzazioni nelle aziende là come io l'ho potuto cogliere il motto conosci possiedi e trasforma fa parte integrante della della vita anche di molti dei presenti eh forse di tutti forse tutti conoscono la psicosintesi adesso non ho guardato approfonditamente ma mi sembra che sia eh molto condiviso eh e significa tra le altre cose avere una maggiore cioè puntare ad avere una maggiore conoscenza di noi stessi e anche dei nostri talenti eh del nostro carattere quindi delle nostre caratteristiche del nostro modo di essere e di agire e ne nello stesso modo io vedo in un'azienda eh o un'organizzazione come un ente che è creato da umani e che contiene risorse da scoprire e da valorizzare da educare e da utilizzare proprio come all'interno di un'entità vivente un essere umano così un'entità vivente come un'organizzazione fatta di umani eh contiene le stesse potenzialità. le risorse umane sono le famose HR eh human resources a brevato spesso si trova proprio HR eh sono eh due parole eh che vengono da da un vocabolario della gestione dell'economia aziendale di cui io non conosco nulla e che indicano comunque questo lo so indicano proprio il personale che lavora nell'ente che viene chiamato anche il capitale umano la forza lavoro. capitale umano non dico che sia una brutta parola certo che dopo il film di Virzi fa un po' impressione no? Perché ehm è come dire anche la parola forza lavoro no? ehm anche se ci si riferisce al valore delle persone nella loro professionalità nelle loro competenze e quindi queste parole marcano l'espressione risorse umane marca il fatto che le persone eh sono importanti e che le spese di uno sviluppo di queste risorse vengono considerate proprio degli investimenti. Al tempo stesso eh questa espressione capitale umano è stata spesso letta anche come il riflesso di una concezione che tende a svalutare la dimensione umana del lavoratore assimilandola alle altre risorse aziendali. Questo forse è un po' un lato ombra no? Come dire bisogna stare attenti parlando di risorse umane eh a mantenere tutte e due le parole vicine risorse e umane quindi a tenere ben presente di che cosa e di chi stiamo parlando e quindi anche la parola capitale umano è è una parola che va ritenuta importante e bisogna dargli un valore particolare se sentiamo una sfumatura un po' ombra un po' che tende a a rendere a rendere a oggettivizzare quindi a rendere a rendere un oggetto la persona che lavora ecco lì bisogna le stesse parole possono avere una un significato che bisogna un po' ecco alzare le antenne da questo punto di vista e cercare di capire. se lo vogliamo vedere dal punto di vista positivo e io stasera lo vorrei vedere dal punto di vista positivo ehm questo capitale umano è è preziosissimo eh ed è da vedere all'interno delle aziende all'interno di noi stessi all'interno di ogni gruppo di ogni tipo di organizzazione eh perché è l'insieme delle conoscenze delle competenze delle abilità delle emozioni delle capacità relazionali che ciascun individuo ha acquisito durante tutta la sua vita e sono quelle stesse cose che su un piano personale eh sono quelle che vanno scoperte valorizzate sintetizzate per crescere ehm questa visione del capitale umano è importante anche al di fuori della delle aziende o delle organizzazioni in senso stretto ma proprio nella società in generale eh una nazione per esempio sostiene dei costi per il suo prezioso capitale umano perché è un tesoro che appartiene a tutti e nelle società per formare il capitale umano ehm gli individui le aziende le comunità sostengono costi sia monetari per esempio non so la costruzione di scuole eh oppure non monetari come il tempo che i genitori dedicano ai figli oppure gli adulti dedicano ai giovani questo è tutto un eh un investimento un investimento che va eh un investimento che va eh di cuore e di emozioni di 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 futuro di immaginare eh una vita che continua eh è un alimentare la vita e e sono degli investimenti quindi che eh che per esempio un paese fa per migliorare le condizioni di vita dell'insieme è come se fosse un una sorta di economia eh sostenibile anche quando si parla di economia si parla proprio non soltanto di un'economia di un'economia delle energie che sono economiche ma sono di tutti i tipi eh per esempio quando i talenti non vengono valorizzati eh dentro una persona in una famiglia eh in un'azienda in una società in una scuola in una nazione quando si tende a non valorizzare i talenti quando per esempio c'è troppo poco danaro da spendere per la scuola per l'istruzione per la cultura eh o anche nella ricerca o in tanti altri campi io faccio degli esempi che mi sono più vicini voi fate farete i vostri questi sono esempi di impoverimento del capitale umano che hanno una conseguenza sullo sviluppo in tutti i sensi di un territorio e e quindi è proprio è è un valore eh enorme questo e oggi viene data una grandissima importanza si diceva questo capitale umano per la crescita sociale economica delle comunità delle nazioni anche proprio per ridurre la povertà dal momento che il capitale umano è in grado anche di incrementare il reddito pro capita di un paese si è visto eh che eh numerosi studi eh per esempio un anno di istruzione in più nella media nazionale delle persone che poi andranno a lavorare a a essere la forza lavoro si esprimeranno e poi forza lavoro i lavori sono di tanti tipi e si lavora nel campo in tutti i campi no? quindi eh è l'energia che una persona e un gruppo di persone ci mettono nella propria vita per creare qualche cosa per sostenere qualche cosa ogni anno di istruzione in più in media eh da una una crescita del prodotto pro capite del cinque per cento. quindi vedete anche qui come tutto va dietro a a a una crescita che è di tutti i tipi sempre non sono fissata con la crescita economica a chi mi conosce mi sembra anche strano che faccio questi discorsi ma lo dico perché secondo me eh in una maniera nuova di vedere anche proprio la creatività umana bisogna mettere tutto insieme è tutto importante tutto ha valore quando porta a una crescita personale e di e di gruppo nella direzione della psicosintesi che è quella di una crescita anche spirituale transpersonale di contatto di amore di unione fra le persone ehm quindi ritorniamo un po' eh a questo discorso collegato più al mondo del lavoro classico no? Questo delle aziende degli enti delle organizzazioni il capitale umano si diceva rappresentato dall'insieme delle persone che che lavorano dentro un'azienda dentro un'organizzazione e che hanno una propria conoscenza una propria competenza che non è proprietà di nessuno soltanto chi chi la possiede nei proprietari ma viene invogliato ehm a metterla a disposizione no? In qualche modo delle relazioni con gli altri e anche magari nel lavoro specifico che viene fatto. Ehm questo termine del risorzo umane è un termine è un termine abbastanza nuovo diciamo che è nato alla nella metà del secolo scorso intorno agli anni sessanta proprio per per marcare un po' una differenza eh parlando di risorze umane una differenza con con i tempi che erano preceduti no? Quando c'era questo questa idea del lavoro che era incentrato molto sull'organizzazione meccanica scientifica del lavoro e poco si si guardava all'aspetto più umano, relazionale, psicologico, emotivo delle persone che lavoravano. e e quindi eh c'è stato da da allora un incremento dal punto di vista dell'attenzione degli aspetti psicologici per esempio della motivazione come si fa a a motivare delle persone a essere contente a essere eh a essere soddisfatte del proprio lavoro e aver voglia di contribuire all'interno dello spazio in cui si trovano a lavorare. e questo è diciamo il benessere più psicologico che è nato di pari passo vi dicevo che le cose quando sono positive si ehm eh si avvicinano l'una all'altra è nato di pari passo per esempio con la medicina del lavoro cioè con il tenere d'occhio in maniera positiva la salute psicofisica dei delle persone che lavorano perché sono due aspetti interconnessi. se tu consideri le risorse umane come un fattore importante di crescita di un'azienda di un'organizzazione allora farai attenzione a tutti gli aspetti legati al benessere complessivo delle persone. Questo lo si fa lo ripeto io adesso parlo aziende organizzazioni ma pensate che tutto è un'organizzazione no? Una famiglia un gruppo di amici la scuola e tanti sono tanti gli aspetti in cui possiamo applicare questo aspetto delle risorse umane. Ehm ecco eh e e tutte queste discipline che concorrono al benessere dell'individuo ovviamente sono nate a anche all'in perché questo benessere si è visto si vede è ovvio ma è non è adesso lo diamo che scontato non era così scontato che è anche un vantaggio anche economico per l'organizzazione in cui vengono applicate queste eh questi principi. si pensava un tempo che le persone lavorassero soprattutto per il benessere economico invece si è visto che questo è di gran lunga secondario per le persone che il il motivo di benessere principale eh e la motivazione principale è sempre di natura sociale. Cioè le persone trovano benessere quando ehm la maggior parte delle persone eh quando hanno un buon rapporto con gli altri da cui ricavano anche un senso di identità. Quindi è un investimento importante questo investire con le persone che lavorano con noi per noi ehm non è proprio qualche cosa che è un come si diceva prima un un aspetto vinci vinci. perché il lavoro in sé eh può essere anche privo di un significato intrinseco il significato delle perché le persone mettono nel loro lavoro sì è in quello che fanno ma anche nel modo in cui viene svolto qual è l'ambiente in cui eh si trovano a lavorare. si è visto proprio con delle ricerche che molti lavoratori sono più influenzati la maggior parte dei lavoratori sono più influenzati dalla forza sociale del gruppo che dagli incentivi che vengono per esempio dall'alto no diciamo così che sono graditi ma che non sono sufficienti a creare un ambiente di lavoro in cui le persone stanno stanno bene. dico delle cose che sembrano ovvie io spero che sembrano ovvie oggi ma sono come delle piccole grandi conquiste che stiamo facendo eh quindi è come se ehm se questo aspetto del del dell'uomo eh economicus eh che si pensava appunto un tempo che fosse mh l'uomo motivato soprattutto da interessi economici e che ogni sentimento ogni altro interesse doveva essere era secondario rispetto a questo si è visto assolutamente che non è così si potrebbe contrapporre a questo l'uomo o l'uomo o l'uomo psicologicus una nuova visione che dà appunto un molto spazio anche che è legittima nel campo anche del lavoro eh lo scambio di sentimenti di emozioni che fanno parte proprio della prestazione eh lavorativa. collegato all'aspetto delle risorse umane c'è anche questo a questa idea che le risorse umane non vanno solo riconosciute sostenute eh riconosciute da appunto ma anche sviluppate lo sviluppo delle risorse umane. nel sviluppo delle risorse umane si applica alcuni principi alcune idee sia allo sviluppo delle proprie risorse umane sia allo sviluppo delle risorse umane intese appunto come ehm le qualità intrinseche dentro le persone che lavorano in una organizzazione eh che hanno un valore principale ehm centrale per l'azienda. ehm ora ci sono dei fattori interni esterni no che eh sia nella persona eh che nel gruppo diciamo delle risorse umane ehm sono influenti. gli esterni se parliamo dal punto di vista di un'azienda mh sono spesso fuori controllo rispetto all'organizzazione come anche rispetto all'essere umano singolo alcune cose che avvengono all'esterno e non le possiamo scegliere non le possiamo manovrare poco per quanto riguarda un'azienda per esempio è il clima economico in cui ci si trova le tendenze del mercato del lavoro. queste sono delle variabili che sono un po' difficili da controllare ci sono però dei fattori interni che sono invece più facili da non facili sono più sono più possibili da controllare no per esempio eh capire essere consapevoli di qual è una cultura la cultura dell'organizzazione e che sostiene per esempio lo stile manageriale. è uno stile molto aggressivo? È uno stile mh che va incontro alle persone oppure che comanda le persone? Questa è un è una osservazione che si può fare all'interno di un'azienda per esempio e questo clima si può cambiare perché è fatto da uno stile che non è innato è creato da alcuni fattori che possono essere cambiati. si chiama proprio un clima ambientale no? Eh oppure anche ehm questo clima interno è fatto anche da che dall'approccio che ha ehm l'azienda, la struttura, la scuola, chiamatela come volete voi, che approccio ha? Ha certe responsabilità sociali e etiche. vengono ci si si pone delle domande etiche si danno delle risposte eh che per le persone che lavorano dentro sono soddisfacenti vanno nella direzione eh appunto consonante. Questo è anche un'altra cosa importante quindi non soltanto dal punto di vista della relazione ma anche proprio della cultura di fondo no? Di questo ne parleremo un pochino anche tra poco. E quindi si diceva lo sviluppo di queste risorse umane come è importante e come nell'essere umano sviluppare queste risorse umane è frutto un po' di due modalità. Da una parte c'è un aspetto di istruzione no? Ci sono come delle attività di addestramento un po' ehm sono concentrate sul saper fare eh le cose e saperle fare bene, saperle fare meglio di prima. e le altre parti invece sono più mh più che istruzione o addestramento si parla proprio di formazione. La formazione è un'altra cosa perché opera più nel territorio del saper essere e ci sono molte persone appunto è capitato anche a me come vi ho detto di lavorare proprio nella formazione delle risorse umane dentro delle aziende anche fuori eh perché io per esempio appunto voi sapete che oltre che eh lavorare nel campo della psicosintesi mi piace lavorare anche con il teatro anche l'ips per me è uno spazio di formazione utilizzando un linguaggio utilizzando dei criteri che sono diversi dagli altri quando vado in una scuola per esempio vedo che ci sono molti insegnanti che sono anche dei formatori degli educatori. quindi chi lavora nel campo della formazione delle risorse umane si trova in una situazione in cui deve intervenire sia con azioni pratiche tecniche eh pensate anche alla psicosintesi che si fa si fanno anche degli esercizi delle tecniche cose anche molto pratiche però con un obiettivo che non è tanto quello di addestrare a fare delle cose ma è il benessere delle persone. che è un obiettivo che è un obiettivo se vogliamo esistenziale quindi azioni tecniche e pratiche con l'obiettivo esistenziale che cosa implica questa parola esistenziale? implica molte cose ovviamente tantissime però anche riflettevo appunto preparando questa conferenza che implica avere a che fare con qualche cosa che poiché è collegato all'umano a che fare molte volte con una una situazione in cui non ci si trova tanto facilmente a doversi afferra a potersi afferrare a delle regole rigide su come lavorare quando si lavora col fattore umano bisogna spesso improvvisare improvvisare da professionisti diciamo e quindi ehm e imparare a lavorare anche con lo sfumato poi vi dirò meglio di che cosa si tratta questo sfumato cosa significa improvvisare da professionisti? Chi lavora col fattore umano anche un insegnante eh dicevo prima tanti di noi impara a lavorare entrando in relazione con le persone e agisce mentre riflette riflette mentre agisce improvvisazione per me è questo cioè trovarsi in un punto eh importante della relazione con l'altro in cui eh quello che conta è mettere a frutto in modo veloce delle competenze che abbiamo acquisito e delle delle idee a cui ci riferiamo ma senza avere un manuale davanti cioè ehm ci è come un uno che va a camminare in montagna no? Ha una direzione eh si è fatto il fiato va e poi adatta passo dopo passo a quello che trova al sentiero che trova la direzione è quella si è messo eh si è vestito in modo adeguato e poi deve vedere quello che trova c'è uno scrittore un filosofo americano che ehm che si chiamava Donald Sean che ha scritto un libro che si intitola il professionista riflessivo e sviluppa proprio questo concetto della pratica riflessiva esamina in questo suo libro mh alcune professioni varie c'è mh ingegnere l'architetto eh il manager lo psicoterapeuta e e illustri quindi tutte persone che hanno professioni diverse e che però ehm le ha studiato il modo in cui operano e lui ha scritto questo libro dicendo che eh li vede che affrontano i problemi in un certo modo ricorrono quasi sempre all'improvvisazione quell'improvvisazione che come si diceva prima è si apprende nel corso della pratica e fanno appello più che altro a questo più che a formule imparate durante gli studi universitari e come dice ehm propone un modo di dire che è riflessione nel corso dell'azione non si riflette e poi si agisce non si agisce senza riflettere si fanno le due cose insieme e quindi è impari facendo attività eh e ti muovi che poi anche il modo in cui noi impariamo le cose nella vita eh noi le impariamo assimilandole per imitazione e facendole noi stessi e e quindi è come il saper imparare dal fare saper imparare mentre si fa un po' come diceva il poeta Machado eh il cammino si fa camminando cammino si fa camminando così assomiglia un po' anche alla vita no? questo non si può mh non si può proprio saperla prima di vivere no? Ok riprendiamo un po' questo questo a me piace lavorare un po' anche sulle parole quando quando le metto insieme magari all'interno di un discorso come questo in una conferenza quindi se si riprende questo binomio risorse umane eh possiamo riprenderlo anche da questo punto di vista più così eh di che cosa di che cosa significano queste due parole quando diciamo risorse per esempio spesso pensiamo a qualche cosa che è fuori di noi no? Nel mondo le risorse idriche le risorse finanziarie le risorse economiche ambientali cioè qualche cosa che possiamo utilizzare e quando pensiamo a noi stessi come come risorse ci ci sembrerà un po' strano però pensare come qualcosa che noi utilizziamo o siamo utilizzati e quindi questa questa radice di risorsa forse non fa tanto per la risorsa umana che ci sentiamo di essere però risorsa c'è anche un'altra etimologia molto interessante che è risorgere quindi è come una rinascita rinnovamento quello che risorge no? Quando si dice perciò risorse rinnovabili è come dire due volte la stessa cosa risorse risorse che risorgono no? È come se fosse una cosa un po' tautologica e secondo me è bello no? Anche eh che le persone che si occupano eh di risorse umane abbiano in mente questa etimologia perché ci si ci si ci si ci si occupa di persone ci si occupa di persone anche qui è bello l'etimologia no? Sapete che persone viene da personare eh è un'etimologia che ha a che vedere con le maschere che servivano a far risuonare la voce proprio nel nel teatro greco inizialmente poi anche in altri tipi di teatro e quindi il far far risuonare una voce la persona è una voce che è eh che risuona che si sente che si fa sentire e questo fa un po' pensare alla relazione no? Con gli altri persona è in relazione sembrano proprio intrizze perché se uno fa risuonare la voce per farsi sentire vuol dire che c'è qualcuno che sente uno spettatore si dà per scontato che una persona è in relazione con qualcun altro e quindi noi sappiamo che eh le persone hanno risorse e sono risorse nella nella nelle aziende per esempio io ho usato spesso la stella delle funzioni della psicosintesi per lavorare perché le funzioni le nostre funzioni psichiche le sensazioni le emozioni i desideri i sentimenti gli impulsi pensieri le intuizioni le nostre ehm funzioni psichiche sono le nostre risorse in quanto umane le singole funzioni le singole funzioni sono proprio gli strumenti che l'uomo come essere biopsichico possiede ha per rapportarsi all'ambiente esterno e anche con quello interno e sappiamo che ognuno di noi ha delle funzioni preferenziali che sono quindi più sviluppate degli altri proprio come delle risorse sono dei filoni d'oro che sfruttiamo di più altre le sfruttiamo di meno sappiamo anche che l'obiettivo della psicosintesi è quello anche di equilibrare in ciascuna persona ciascuna una funzione psichica attraverso l'uso della volontà attraverso 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 tanti diversi esercizi è proprio la psicosintesi personale in sé che spinge a conoscere e a conoscere meglio e a mobilitare meglio tutte le funzioni psichiche insieme e così è molto interessante anche applicare questa stella delle funzioni perché le persone dentro dentro le aziende si percepiscano come ricche di risorse risorse umane quindi contiene poi anche la parola mano ovviamente no che questa parola anche questa bellissima humanus omo c'è questa radice che eh sanscrita che è che significa essere generare crescere bellissima questa cosa poi c'è anche l'humus la terra che di nuovo però qualcosa che che generano qualcosa che è fecondo insomma diciamo che umano eh ha proprio in sé in questo nome una missione creativa qualche cosa che quindi risorge e crea diciamo così sappiamo anche che ehm non c'è soltanto questo aspetto eh creativo che ehm che ci denota ma c'è anche una specificità dell'essere umano no che è quella che è il linguaggio che l'umano a differenza dell'animale c'è quello che Aristotele chiamava il logos il linguaggio linguaggio pensiero poi possiamo chiamarlo mettere il linguaggio trattino pensiero quindi è una capacità di pensare su se riflettere su di sé e sugli altri e e l'uomo è ehm è questo è il vero uomo è colui che sa fare questo no? ecco quindi vabbè su umano poi c'è la parola umanità i derivati diciamo umanità umanesimo ehm umanitario tutto quello che eh che ci lega anche ai valori condivisi no? eh siamo tutti uguali in quanto essere umani ecco quindi che questo binomio risorse umane è così ricco no? è così è così forte com'è bello sentirlo così potente eh e poterlo anche trasmettere all'interno di uno spazio di lavoro eh eh si diceva prima ehm che lavorare con l'umano significa anche lavorare con lo sfumato lo sfumato io mi riferisco anche proprio a a un libro che ho letto anni fa e che si chiama Pensare come Leonardo il titolo per intero è Pensare come Leonardo i sette principi del genio è un libro appunto che è scritto guardando a Leonardo come a un prototipo diciamo così di 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 uomo e che ehm attraverso la sua arte il modo di essere artista eh ha prodotto anche dal nel suo stile delle delle cose che possono essere usate come analogia per capire meglio gli esseri umani lo scrittore che ha fatto questo libro è un è un coach è anche un consulente gestionale che si chiama Michael Gelb e ha scritto proprio questo libro mettendo tra questi sette principi lo sfumato che dice lo è il principio che più di ogni altro ci può aiutare a comprendere la complessità del mondo e e dell'essere umano. se voi pensate a qualche dipinto eh di Leonardo potete vedere nella vostra immaginazione questa tecnica dello sfumato messa in opera è una tecnica che tende a sfumare i contorni delle figure con gradazioni sottilissime di luce colori che si confondono e si fondono in modo impercettibile e lui dice perché pensare come Leonardo quindi non è un esercizio di di pittura ma di pensare perché dice che pensare in modo con lo sfumato ci fa ehm aprire alla disponibilità di abbracciare il dubbio il paradosso l'incertezza che non è l'incertezza un tratto tremolante è qualche cosa che è sfumato è il contrario del pensiero che vede bianco o nero dicotomico o destra o sinistra o sì o no e che va sempre verso la ricerca di certezze che impedisce quindi eh o impedisce insomma rende abbastanza difficile la rappresentazione delle realtà complesse che hanno bisogno di questa accoglienza dello sfumato è molto più facile accogliere un problema complesso in termini di sfumato che non in termini di assoluti bianco o nero se perdiamo le sfumature anche appunto nei gruppi umani le risorse umane che creano proprio quella particolare fisionomia di quel problema eh è forse anche più difficile intravedere la soluzione perché non possiamo avere dei parametri che vengono messi sopra a coprire il problema invece che a osservarlo questo in tutti i piani sia quello personale sul piano del lavoro quindi anche le risorse umane andrebbero addestrate a prendersi cura dello sfumato penso anche qui anche alla scuola no anche come questo potrebbe essere veramente un modo anche per andare incontro a quelle risorse umane che sono gli insegnanti nella scuola diciamo in altri termini che l'umano raramente è a alta definizione e c'è sempre un po' dei contorni se mi permettete la parola un po' ambigui perché c'è sempre questa questa difficoltà di di creare delle delle dei confini netti no e questo ci può aiutare a comprendere a apprezzare anche le sfumature ecco io mi avvio verso la conclusione di questo nostra questa mia chiacchierata per ora spero che diventi anche nostra e parlando sempre di risorse umane e di e di mondo del lavoro dentro le aziende dentro le organizzazioni c'è un altro concetto che spesso è collegato a quello delle risorse umane cioè in genere chi si occupa di risorse umane si occupa anche di engagement come si fa a mantenere collegati ingaggiati di una parola un po' brutta in italiano le persone ecco a me piace pensare e porto con me questa visione dove posso che l'engagement è come è in come se lo leggiamo in francese un engagement è un fidanzamento quindi è reciproco è un un'unione un rapporto che si crea spesso le persone che parlano di di engagement aziendale pensano che le appunto le persone possono essere tenute eh ingaggiate in azienda attraverso eh dei degli incentivi economici per esempio dei benefit che non vanno buttati via ma io ci aggiungerei anche qualcos'altro perché questo è come un un legame reciproco che si può creare la prendo un pochino alla larga e poi stringo abbiamo detto anzi forse lo dico adesso per la prima volta si potrebbe dire che persone migliori fanno migliore un'azienda un'organizzazione una società ma quando è una persona migliore quando è al suo meglio che non è migliore di qualcun altro è al meglio di sé e quando siamo al meglio di noi quando stiamo bene e per stare bene cosa si intende mica sempre che siamo felici al cento per cento tutto ci va bene tanto quando siamo motivati per esempio quando c'è qualche cosa che vale la pena quando per noi ha senso quindi se io mi occupo delle persone eh prima e poi le altre cose dell'azienda o meglio insieme allora eh io avrò più facilità nell'avere delle persone che compongono questa azienda queste entità che hanno danno valore a quello che stanno facendo danno significato in questo senso sono coinvolti che è un altro modo per dire ingaggiati sono coinvolti naturalmente di fatto perché eh perché si trovano in uno spazio che li vede e adesso c'è questo film avatar no e con questa tra le altre cose c'è questo modo di salutarsi che assomiglia molto a namaste eh indiano che è eh onoro la divinità che è in te che i che dicono questi avatar del film quando si guardano e si salutano dicono io ti vedo e a me piace ricordare anche un altro modo interessante che abbiamo noi di salutare che è addio 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 ora per noi è ciao per sempre ma addio era un saluto come un arrivederci e era addio cioè io affido te addio e quindi vedete che le parole come come sono belle significative quindi tornando un po' indietro io sono coinvolto se sono visto se posso vedere anche gli altri se sono messo in una relazione ehm di eh rapporto reciproco engagement reciproco si potrebbe dire tornando al vecchio modello di engagement che io spero che non se ne vada perché gli incentivi sono sempre benvenuti naturalmente di tutti i tipi che c'è però un engagement delle risorse dove le cose che contano di più sono i premi e le promozioni ehm le cose che hai a disposizione e queste cose sono importanti sono motivanti e anche sono anche frutto di un interesse reale che l'organizzazione ha nei tuoi confronti è una motivazione che in psicologia si chiama estrinseca cioè viene da fuori e anche questo è stabilire una una relazione eh è un versante tradizionale in cui vedere l'impegno il legame però è un mondo è sicuramente un modo soddisfacente perché ci sono dei vantaggi sia per la persona che per l'azienda e questo è l'engagement delle risorse poi potremmo dire che c'è anche l'engagement dell'umano quello che è una motivazione intrinseca che nasce da me e nasce da me perché c'è qualche cosa in quel mondo in quell'azienda in quella eh in quell'entità che nutre una parte del dell'essere e dà senso a quello che io sto facendo dà senso eh c'è qualche cosa che ehm è una relazione appunto di reciprocità ed è una parte dell'engagement a cui le aziende danno molte aziende danno un grandissimo valore adesso forse non tutti lo apprezzano nello stesso modo perché è anche un rischio tra l'altro per l'azienda perché magari fa dei grandi sforzi per andare incontro a quello che pensa che sia un benessere il senso delle cose e poi magari qualcuno eh invece rimane molto più interessato al vecchio modo di di rimanere in contatto l'engagement delle risorse non è detto che abbia una ricaduta sicura nella soddisfazione delle persone c'è anche un lato ombra se vogliamo no? Che ehm potrebbe anche essere un modo per rendere le persone macchine da lavoro più felici no? Un po' lo stesso rischio che delle volte si dice che ci può avere anche la meditazione e la mindfulness nel lavoro no? Quello di rendere tutte le persone carine tranquille che lavorano meglio che magari lavorano di più ma ricordatevi da dove sono partita io sono per lavorare di meno e meglio quindi ho sempre presente anche quel punto di vista lì almeno nel nel mio discorso tutto si tiene una cosa una cosa con l'altra ecco quindi io eh chiuderei qua dicendo appunto ripetendo quanto è importante costruire in modo consapevole le relazioni e vi cito anche in proprio in chiusura un'ultima cosa che è molto importante nell'azienda non soltanto lavorare con il la stella delle funzioni ma anche con il modello ideale quindi aiutare le persone a chiedersi in quanto persone in quanto in quanto persone che lavorano con un certo ruolo quindi nell'aspetto proprio del ruolo lavorativo come mi vedo io come mi vedono gli altri e come vorrei apparire come non vorrei apparire come vorrei essere come posso e voglio essere quindi fare tutto un percorso di conoscenza di sé di consapevolezza di sé che aiuta senz'altro la costruzione di una cultura diversa dentro le aziende perché una cultura si costruisce così una un'impresa è una comunità e la cultura aziendale può portare tanti pilastri la leadership la comunicazione la relazione ecco quando si cerca di sviluppare il potenziale umano certamente la cultura della relazione e della consapevolezza secondo me dovrebbe essere il pilastro numero uno e e qui chiudo questa questa piccola riflessione eh sulle risorse umane grazie mille dell'attenzione forzata perché con tutti i microfoni spenti naturalmente c'è un silenzio che sembra di grande attenzione però ora c'è uno spazio se volete anche un po' per portare le vostre idee fare domande se volete intanto vi ringrazio molto e e chiudo qua per il momento grazie Francesca buonasera buonasera mi permetto di darti del tu sì posso grazie eh apro io perché intanto ti ti volevo ringraziare molto per tutte queste riflessioni non mi sarei perso questa conferenza per niente al mondo perché io lavoro da più di vent'anni nelle risorse umane sono sono un gestore risorse umane oltre che seguire la psicosintesi da molto tempo con alti e bassi per per motivi di tempo quindi grazie eh per le tue moltissime molteplici riflessioni che hai stimolato praticamente ci sarebbe ad aprire un una parentesi per ogni minuto della della tua conferenza e di punti io fra l'altro per me non è molto semplice perché come dicevi tu hai fatto un passaggio molto importante a un certo punto che è un passaggio di contesto no? I fattori esterni che non sono controllabili dalle aziende quindi fare risorse umane all'interno di aziende diverse in contesti diversi è molto diversi e quindi devo cercare spero che mi riesca di fare lo sforzo di scendere la mia esperienza diciamo giornaliera della mia azienda da quello che è un po' il il contesto che hai descritto. Un fattore che volevo portare eh all'attenzione è nel nel mondo del lavoro è l'importanza del fattore tempo e quindi della velocità il il l'accelerazione la forte accelerazione che che hanno subito tutti i processi del mondo del lavoro l'accelerazione delle comunicazioni è un fattore difficilmente gestibile è una delle competenze diciamo che al giorno d'oggi è è ancora divenuta sempre più importante è quello di cercare la 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 miglior il miglior rapporto di mediazione fra la velocità e la qualità perché eh essere veloci e dover dare risposte rischia di far perdere qualità e quindi il cercare no di capire qual è il il miglior risultato nel minor tempo è diventata una competenza sostanziale se si sposta nell'ambito risorse umane questo fattore è molto complesso da gestire perché eh con la velocità e anche tutti i passaggi che hai fatto correttamente bellissimi bellissimi e questi proprio sul sul tema del dell'improvvisazione dell'agire mentre che si riflette mentre si riflette che per un per un gestore risorse umane è fondamentale molte volte dobbiamo rimodulare dei colloqui completamente a seconda di come va il colloquio stesso quindi è è fondamentale e il fatto della velocità è un tema è un tema molto importante nelle risorse umane perché la velocità toglie tempo di riflessione chi lavora nelle risorse umane ovviamente è sempre più supportato da basi dati da numeri però eh deve comunque mediare non farsi dominare ma deve mediare eh queste il tema delle informazioni con il tema umano no come dicevi correttamente col tema relazionale sì e e questo è un fattore importante perché la velocità toglie tempo di riflessione tempo di ascolto che è un'altra eh competenza fondamentale e quindi ehm rifacendomi al passaggio delle no dello sfumato la velocità rischia di farti perdere molte sfumature e quindi rischia rischia di riportare molto il rapporto a un rapporto digitale e tu l'hai definito giustamente dicotomico no nel senso in cui si si impostano eh no sempre sempre più schemi molto schematico e sempre meno sfumature per cui questo questo lavoro eh sulla sul tema della velocità e della qualità nella gestione risorse umane secondo me è fondamentale è uno dei temi più importanti su cui poi le aziende devono lavorare ehm un altro un altro fattore chiaramente è è la è il tema sono i temi hard no quindi tutto quello che poi non è relazione cioè tutto quello che alle risorse umane viene chiesto dall'azienda in termini di costi risparmi indicatori di conto economico che purtroppo ci sono e con i quali bisogna fare i conti no per cui un primo equilibrio è quello proprio di mestiere relazionale fra velocità e qualità l'altro equilibrio è quello fra fattori hard e i fattori soft che chiaramente sì rischiano di perdersi per strada no in un in un mondo che corre veloce in cui i costi e i tagli sono sono sempre più all'ordine del giorno trovare l'equilibrio non è semplice no quindi è sempre un tema un tema di equilibrio e Andrea ti interrompo soltanto per questo ovviamente molto interessante ovviamente perché chi vede le cose da dentro ha in mente mille esempi di tutto no no erano questi due i punti i punti fondamentali che volevo portare sono Andrea punti veramente importantissimi e come dicevi tu i fattori esterni non possono essere eh non sono controllabili alcune cose che hai detto fanno però anche parte di una cultura aziendale interna e io dico a parità di aziende ho visto tante persone che cambiano aziende a parità di mercato a parità di nicchia di mercato perché è diverso il clima che si respira allora su questo io non ho nessuna formula veramente ve l'ho detto io sono una psicologa clinica un'osservatrice partecipante nelle aziende direi però vedo che la differenza umana è sostanziale la cultura di un'azienda che è anche che nasce anche dall'alto naturalmente e la cultura umana e il fattore umano sono fondamentali e la velocità per esempio è una cosa importante ma non sempre ha a che fare con la qualità perché bisogna come la produttività dice se lavoreranno venti ore sarà meglio che nella che invece di lavorarne cinque no assolutamente no quindi fa parte anche un po' di un'ignoranza a volte e le aziende più grandi ehm sono quelle che o sono veramente quelle pessime in cui non voglio fare nomi adesso ma sono quelle tremende o quelle che invece cambiano in qualche modo ehm le tessere sul tavolo in una maniera creativa e trovano delle strade nuove un po' come dovremmo fare noi dentro di noi però ti ringrazio molto Andrea perché sono dei punti fondamentali visti da chi dentro è quindi grazie grazie anche per l'apprezzamento che eh almeno mi ha fatto sentire che non ho non ho detto cose troppo no no sono sono io a ringraziarti è stato un grande momento di arricchimento di riflessione grazie davvero molto gentile grazie ci sono altri interventi altre cose che vi va di condividere di dire io volevo solo intanto ringraziarla davvero perché è stata una conferenza molto nutriente di venerdì sera con la stanchezza che appunto lavoriamo tanto che non per me non è uno stato simbolo è anche stanchezza diciamo per cui mi sono imposta appunto avevo letto l'annuncio eh quindi intanto un ringraziamento davvero eh volevo una brevissima riflessione riguardo al capitale umano che produce anche beni ricchezze nelle aziende però c'è una parte enorme che è quella della pubblica amministrazione dove non si produce un bene materiale ma si produce un bene umano un'assistenza penso agli ospedali penso alle carceri no penso a tutti quegli ambienti dove appunto la prima parte del suo intervento assolutamente condivisibile lavoriamo meno lavoriamo tutti stiamo tutti molto meglio in molte realtà non può essere applicato perché se fai il medico l'infermiere o insomma voglio dire lavori in aziende così è chiaro però di contro invece è molto importante il clima relazionale e tutta questa montagna di cose bellissime che lei ci ha raccontato in maniera quasi narrativa mi permetto di dire perché insomma io appunto sono una risorsa umana e a mia volta diciamo anche gestisco risorse umane quindi l'ho sentito veramente come delle parole che si incarnano e se nelle aziende diciamo private che producono magari beni e ci sono delle aziende avanzate no dove appunto che lei ci ha citato dove sta entrando questa cultura delle relazioni che è vero a volte può essere anche strumentale no perché c'è sempre questa sfumatura magari forse nella pubblica amministrazione dovrebbe entrare ancora di più perché il pil appunto non è soltanto la produzione della ricchezza materiale ma è una ricchezza esistenziale diciamo che fa migliorare il benessere di tutti era solo una piccola riflessione sono d'accordo sono d'accordo Susi e penso anche che per per la mia piccola grande esperienza che è quella della dell'utente del della pubblica amministrazione io sono stata molto fortunata certo come tutti ho trovato nel non sono giovanissima quindi ho avuto esperienze di tutti i tipi però sono stata molto fortunata e quando ho visto persone al servizio del loro al servizio degli altri tramite il loro lavoro ho sempre visto persone che anche se stanno sedute in una scrivania in mezzo a scartoffie si sentono utili e sono sapessero tutti quanti sono utili quanto 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 possono essere far la differenza proprio e questo secondo me è qualche cosa che chi non lo sente in modo spontaneo potrebbe imparare a sentirlo l'utilità del lavoro che si fa le persone che si sentono inutili non c'è niente di peggio per una persona che dargli da 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 denaro per fare un lavoro che è inutile è qualche cosa che è qualcosa che è lontanissima da noi noi lavoriamo molto con la motivazione intrinseca se ci sentiamo partecipi di qualche cosa allora tiriamo fuori non solo il meglio di noi possibile ma anche una polverina magica che è una luce che è il senso di essere utile di esserci di essere utile e questo credo che sia molto importante grazie susi ci sono altre cose francesca volevo aggiungere anch'io qualcosa innanzitutto ti ringrazio ti ringrazio molto perché in realtà questo questo argomento trattato in questa modalità in realtà è molto mi ha colpito molto no perché di solito io ho lavorato 45 anni in aziende di alto livello no e quant'altro nella qualità e quant'altro e in realtà molto spesso questi mondi cioè il mondo dell'umano fuori e il mondo dell'umano dentro in realtà sono un po isolati in realtà no o almeno io li vedo così e quando tu hai parlato di umanità sfumata io ho ritrovato tanto in questo in realtà e questa serata io la la vedo così nel senso che tu hai portato un tema un pochettino fuori no da dagli ambiti istituzionali di di un'azienda perché in un'azienda se ne parla di queste cose però se ne parla in un'ambientazione con delle parole ben specifiche con degli intenti ben specifici mentre la sfumatura dell'umano secondo me il punto focale no nel senso che un uomo un essere umano non vive una parte di sé dentro l'azienda è una parte di sé fuori dell'azienda ma in realtà dovrebbe essere compreso nella sua totalità e questo purtroppo in realtà nell'azienda per vari motivi che non siamo qui perché sennò se ne parlerebbe per ore chiaramente va compreso ancora di più oggi perché perché in realtà le aziende hanno bisogno delle persone motivate delle persone che hanno passione perché il tipo di lavoro che oggi si chiede un po a tutti i livelli è un lavoro molto performante a livello quasi intimo no di capacità personale non è soltanto titivo ma un lavoro creativo si chiede alle persone di in quei pochi secondi o minuti che stanno facendo un'attività specifica di inventarla ristretta in tante regole però in realtà si chiede questo qualcosa di più perché quel qualcosa di più rende la la nostra società le aziende e quant'altro più efficaci nel proprio lavoro più qualitative nel proprio lavoro quindi le persone non possono essere staccate quindi questo fatto che hai portato delle del fatto dello sfumato mi ha veramente colpito e spero proprio che la psicosintesi al di là di altre forme di di aiuto alla persona entri più provvedentemente dentro le aziende perché la problematica è questa molto spesso senza dire niente però insomma altre tecniche sono molto spingono verso la performance specifiche per alcuni settori e anche queste hanno fatto vedere che comunque nel tempo hanno al loro limite perché la persona viene stimolata in quella piccola particolarità però poi si stanca non ce la fa mentre è l'essere umano completo che deve in qualche modo deve che eh dovrebbe entrare a a vivere la sua vita pieno nel mondo del lavoro e il mondo del lavoro dovrebbe capire dovrebbe comprendere che la vita è il lavoro e viceversa grazie grazie Claudio grazie molte ma poi ecco ci sono dei degli esempi magari eclatanti grandi belli da fare anche io cerco sempre eh di portare degli esempi non solo concreti ma anche di di grande portata però vi dico un'altra cosa io ho una persona che conosco un'amica diciamo che ha cambiato di recente lavoro eh facendo la stessa cosa in un luogo diverso un'operaia lei è un'operaia ha lavorato per alcuni anni in un'azienda adesso è andato in un'altra fare la stessa identica cosa stessa eh stesso scambio economico stesso orario è rinata è rinata vedi una come una piantina che prima era con la testa bassa stava morendo due gocce d'acqua che sarà niente il niente che è un tutto per questa persona quindi non c'è soltanto l'aspetto comunque importante eh diciamo politico no delle del della cultura aziendale eccetera c'è anche poi quell'aspetto che è proprio il goccia goccia è l'aspetto di una realtà che lì veramente non c'è struttura sociale che tenga è fatta da uomini e donne la struttura dove uno vive sono i quei sorrisi eh quel quel quello sguardo quelle piccole concessioni no? Eh e quindi ecco io su questo punto molto sul io punto sul grande sul piccolo mi piace usare il microscopio e il telescopio le due cose che messe insieme eh danno in qualunque fenomeno due due fenomeni fanno vedere un fenomeno unico in due modi completamente diversi e a noi sta a metterlo insieme e a me fa molto bene questa cosa quindi io spero molto Claudio e amici tutti che questo nostro queste nostro mh essere un po' visionari ma concreti ci aiuti a mettere a fuoco quelle cose che non saranno la maggioranza ma che potrebbero esserlo perché c'è la possibilità quindi sì insomma mi piace molto che ci siamo scambiati su questo piano che non è proprio il mio argomento però piano piano mio malgrado ma io mi sento non tanto scivolare da una parte ma mi si ingrandisce quando vedo quando guardo col telescopio mi sembra di vedere sempre la stessa cosa col microscopio no ma col telescopio mi sembra di vedere sempre la stessa cosa gli esseri umani grazie che facciamo chiudiamo qua chiudiamo allora chiudiamo chiudiamo così allora chiudiamo con esseri umani risorse umane vi ringrazio molto della vostra presenza grazie grazie a tutti